E ora chiudiamo anche il gruppo dei coristi della parrocchia di San Giovanni e passiamo agli outsider, posso dire così, agli amici del coro Kai di Meridiano. Un applauso. Che pian pianino ci raggiungono, intanto li presento. Il coro Kai di Meridiano è nato per dare continuità a una tradizione che vuole il canto corale e tra amici come una delle migliori espressioni dello stare insieme in montagna. In occasione del suo ventesimo compleanno, lo scorso anno, ha portato con alcuni concerti un po' della nostra Meridiano agli emigrati italiani in Belgio e in Germania. Ha cantato nel Duomo di Basilea e quest'anno nella parrocchia di Strasvice, spero di dirlo bene, a Praga. È un coro di pianura che propone i valori della montagna. Non al caso il suo CV ha per titolo Gente di pianura che ama la montagna. Questa sera ci propone due canti, entrambi scritti e musicati da Bepi De Manzi. Nel primo canto, che si intitola Marie Bepi De Manzi, si racconta un Natale ricco di colori e di luci che evidenziano le espressioni dei volti, le gioie e le paure di Giuseppe e di Maria. Nella canta, come la definisce Bepi De Manzi, il poeta si domanda in dialetto veneto Ma dove siete mai andati a far nascere Gesù? Anche se nasce in una grotta, tutti però sappiamo che è il bambinè d'amore, il vero figlio del Signore. Marie Bepi De Manzi Nossi donà Pani Nossi donà Farnasce Nossi donà Il potere, così torna per tre, in mezzo a tanto gelo, così torna a portare la Madonna, così torna per tre, far nascere Gesù. O bambine, o caro, o bambine d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. O bambine, o caro, o bambine d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. O bambine, o caro, o bambine d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. In mezzo a tante lacrime, che porta il bambineo. O bambine, o caro, o bambine d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. O bambine, o caro, o bambine d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. A tante lacrime, che sei vero figlio del Signore. Grazie. 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 Grazie.